namaste io sono ace the brave ben ritornati ad un altro episodio di another world andiamo un po cosa ci capita in questa zona andiamo a esplorare un po le grotte e vediamo un po cosa c'è allora qua c'è questa zona qua qua possiamo spaccare questo sì andiamo di qua c'è dell'acqua andiamo a vedere un po di esplorare la zona qui c'è dell'acqua che tra l'altro vedete anche nella versione originale però passare vuol dire affogare ok quindi dobbiamo eliminare quell'acqua vediamo come facciamo ad eliminare quell'acqua se vogliamo andare avanti allora intanto andiamo a vedere di sopra cosa c'è anche qua ci sono delle scale possiamo prenderle sì possiamo passare di qua di qua siamo dall'altra parte del ponte ottimo mentre di qua c'è di nuovo acqua quindi non possiamo fare niente ok allora andiamo nella parte non esplorata e vediamo un po di ragionare sulle possibilità che ci sono dobbiamo andare giù e tornare indietro proviamo andare qua sotto a sinistra ok siamo un piano più sotto c'è qualcosa su questo lato no quindi scendiamo ancora qua c'è un buco con una specie di tappo ok vediamo un po di andare da questa parte salta 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 anche qua bellissima la caverna tra l'altro vedete versione normale versione hd e qua abbiamo dell'acqua fatta anche molto bene devo dire un bellissimo effetto e come vedete c'è un piccolissimo pezzettino che tiene su tutta quella massa d'acqua quindi possiamo fare una cosa molto intelligente che è quella di distruggere quella zona la quindi possiamo fare così e scappa 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 aiuto c'è l'acqua che mi segue aiuto ok siamo sopravvissuti abbiamo siamo fuggiti dall'acqua e abbiamo eliminato tutta quella quella zona d'acqua insomma che c'era dall'altra parte in teoria giusto per se torniamo indietro c'è un buco anche la non so se ci serve quel buco comunque andiamo da questa parte adesso come sentite non c'è più il rumore dell'acqua e quindi possiamo passare tranquillamente di qua c'è qualcuno da questa parte ok c'è qualcuno di qua ah mi è finita la pistola giù toh fregato c'è ancora qualcuno possiamo andare al piano di sopra qua si continuiamo a muoverci oh si è visto il nostro amichetto scivolare in basso a sinistra non so se l'avete notato qua continuiamo a muoverci ah perché è venuto attraverso quel portale là ed è caduto attraverso l'apertura ho capito vediamo se andiamo di qua ok quello lo possiamo colpire però c'ha tipo 80.000 scudi quindi non riesco a beccarlo possiamo fare no possiamo fare così darcene giù di qua a vedere cosa c'è da questa parte andiamo uh 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 oh mi attaccano da tutte e due le parti ok non va bene quindi riproviamoci devo rifare questa cosa? si a quanto pare non ha salvato il mio la mia parte ok allora intanto vediamo un attimo scendendo di qua che cosa succede ah finiamo qui ok e scendendo qui scendendo qua ok adesso non mi interessa uh e questa parte qua? possiamo scendere andiamo avanti ok stiamo attenti a non essere schiacciati corri salta au mi ha schiacciato ok quindi proviamo ad andare ancora un po' più avanti saltando di qua dobbiamo stare attenti a quei tentacoli anche andiamo via di qua uh un sacco di tentacoli hop e ci sono anche tentacoli per terra continuiamo a muoverci qua possiamo fare così oh mi ha preso al volo au che male torniamo indietro? ah torniamo indietro non di tanto per fortuna qui come possiamo fare? ah possiamo colpirli ok qua possiamo scendere o possiamo andare in avanti qua vediamo cosa c'è continuare la nostra esplorazione in questa caverna infinita ahhh ok questo è un altro punto ancora con dell'acqua e quindi in teoria se usiamo l'acqua aiuto ok sono morto se usiamo se abbiamo spaccato questo l'acqua dovrebbe arrivare fin qua sotto e alimentare anche quella vasca là il che dovrebbe essere una cosa positiva vediamo subito andiamo qua qua e qua aiuto no ne hanno colpito ok vediamo di andare avanti hop prendiamocela un pochino più con calma facciamo il nostro saltino 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 nooo avevo saltato giusto ogni tanto c'è un po' di problema a capire esattamente la piattaforma giusta ok ok già meglio qua avviciniamoci no niente mi mi devo saltare senza correre ok andiamo allora un po' più avanti facciamo così e così adesso facciamo così così aiuto no ok neanche così quindi ci riproviamo un'altra volta stiamo morendo in tutte le maniere possibili ma è anche quello un po' il bello del oh ops il bello del gioco comunque una delle cose abbastanza carine del gioco è l'avventura è capire in quanti modi si può morire in questo mondo no forse saltare un po' prima o forse devo sparare a diverse velocità proviamo a fare così allora facciamo uno due e tre e facciamo così no ma bisogna saltare in corsa vediamo se ce la facciamo op ok ce l'abbiamo fatta e la cosa un po' strana è che il tasto della corsa e il tasto del salto sono esattamente lo stesso perché si basa ovviamente sulla versione Amiga au spero abbia salvato qua no devo rifarmi il pezzo si basa sulla versione Amiga in cui il joystick aveva un unico tasto di fuoco sto morendo in tutte le maniere possibili e quindi tutto veniva fatto attraverso quell'unico tasto e ad esempio i salti vanno fatti non con un tasto di salto ma con la freccina in su o col joystick verso l'alto qua possiamo fare così così e dopo devo correre quindi torniamo indietro e facciamo così ok siamo ancora vivi possiamo andare di sopra? ok qua non ci beccano perché le le rocce sono dalla parte davanti questo uccellino qua cosa ci possiamo fare? possiamo mandarti via? possiamo spararti vieni da questa parte uh questa è una cosa bella perché? cosa fa questo uccellino? questo pipistrello viene mangiato da quei tentacoli adesso i tentacoli sono fico questa cosa qua quindi possiamo fare così 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 e passare inosservati siamo arrivati al piano di sopra quindi se io sparo qui andiamo andiamo un attimo nel lato spariamo qua si possiamo andare di sopra e quindi ritornare di sopra fare il pezzettino dell'acqua adesso di nuovo che quanto pare avevo fatto troppo presto perché adesso abbiamo distrutto anche quel muro e potrebbe succedere qualcosa più avanti quindi spacchiamo questo e andiamocene via hoppela 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 ok non sono cascato e siamo di nuovo al piano di sopra vedete che l'acqua è molto ben fatta devo dire ritorniamo di qua spacchiamo quest'altro muro ok molto probabilmente per quello che il gioco non ha salvato in questa posizione qua vediamo di andare facciamo così e così passiamo da sopra ah eccolo là il nostro amico che si fa pian piano la sua la sua avanzata c'è qualcosa che ti blocca c'è qualcosa che ti blocca ce la fai lo stesso no bisogna dargli una mano in qualche maniera aiuto devo stare attento che arrivano ogni tanto queste cose comunque siamo ritornati qua per fortuna quindi possiamo uccidere questo dai arriva non arriva adesso proviamo ad andare giù di qua torniamo indietro proviamo ad andare di qua ok bisogna fare un po' di tattica per colpire tra l'altro i nostri colpi non sempre vanno a segno non so se avete notato ah questa è forse la cosa giusta spaccando questa adesso non c'ha più non è non ha più la la come si chiama visto che abbiamo buttato giù quel candelabbro o quella quella lampadina adesso dovrebbe esserci lo spazio per poter passare vero? si esatto vedete che c'è lo spazio adesso per passare e lui è passato e adesso scende di là esatto l'abbiamo visto in basso a destra quindi ottimo siamo riusciti a dargli una mano ancora andiamo di andare avanti questo bisogna stare attenti in un'altra maniera a quanto pare perché non è possibile ucciderlo da questo lato o comunque ha troppa protezione secondo me quindi proviamo ad andare di qua au dobbiamo rifarci questo pezzettino molto molto cinematografico devo dire salute bam cowboy un altro achievement sbloccato vediamo di andare aiuto 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 au no così mi becca proprio al volo quindi no quindi dobbiamo stare attenti che veniamo attaccati da due lati au mi sono mosso troppo avanti quindi vediamo di fare questo attaccando prima questo di qua aiuto per fortuna ha la mira del cacchio quindi siamo sopravvissuti andiamocene avanti ah ecco perché quindi l'acqua ci permette di andare qua sotto ed è esattamente il muro che avevo che avevo colpito quindi vediamo un po' che cosa c'è qua sotto tra l'altro scusatemi ma il gioco è fatto in 4 frame al secondo in questo caso quindi non preoccupatevi se vedete un po' tutto quanto laggante ma è il gioco proprio così l'animazione di questo personaggio è fatta così c'è dell'aria qua sopra? no forse nell'altro sperando di non morire negati attenzione non morire negato vai su vai su vai su prendiamoci un po' d'aria ok così vedete anche la versione normale e la versione HD e torniamo in giù c'è qualcosa ancora più qua sotto? qua sotto è dove dove si moriva con 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 gli spuntoni e possiamo andare da questa parte adesso quindi vediamo un po' che cosa c'è qua saltiamo possiamo rompere questo cavo che a quanto pare è una cosa che servirà e torniamo giù il cavo va in basso come potete vedere dalla da questa schermata qua quindi vediamo un po' che cosa fare intanto torniamo di sopra c'è ancora qualcosa da questa parte? è tutto quanto marino andiamo un po' ah si è rotto fatemi muovere è bloccato il passaggio non riesco a nuotare per tornare indietro fate tornare indietro vorrei tornare indietro ok ce l'abbiamo fatta prendiamo un po' d'aria perché ne avremo bisogno respiriamo un po' e poi andiamo a esplorare ancora avanti perché dobbiamo ancora cercare di capire cosa succede e che genere è questo gioco secondo voi? perché è avventura platform come si dice avventura grafica platform puzzle storia sci-fi insomma ne ha tante di genere di tipologia di gioco a me piace proprio per quello perché racconta una storia e la racconta anche senza troppi fronzoli non ci sono testi non ci sono troppe troppe spiegazioni iniziali non c'è tanta pubblicità del gioco e il gioco è basta per quello che è e per quello che vuole trasmettere andiamo un po' oh aiuto questo c'ha una marea ok questo lancia addirittura le bombe dobbiamo stare attenti e a quanto pare quello non lo possiamo affrontare dovrebbe aver salvato dopo che abbiamo fatto questa cosa quindi torniamo indietro e andiamo un attimo dalla guardia quella che c'ha 8000 8000 scudi davanti dobbiamo salire di qua quella scala a quanto pare è inaccessibile quindi andiamo di qua questo riusciamo a sconfiggerlo così così e facciamo uno scudo due scudi ah mi spari addosso questi e mi spara comunque quindi devo fare la stessa cosa ah ok le porte si aprono quindi devo farle aprire e farle chiudere tipo ok mi spara attraverso perché se le porte si chiudono quando lui lancia le bombe sono a posto ad esempio così boom e adesso posso passare vediamo chi c'è da questo lato abbiamo una stazione di ricarica che andremo ad utilizzare vediamo chi c'è qua ahhh non l'ho ucciso a quanto pare comunque quel quel uh aiuto quel ok siamo un po' prima quindi vuol dire che non va fatto esattamente così intanto vediamo di tornare di qua ottimo andiamo di andare avanti dobbiamo beccarlo al tempo giusto a quanto pare il lampadario per poter uccidere la guardia che c'è al piano di sotto scusato sta nottito spero di averlo tolto dal microfono aspettiamo che si ferma no non è questo a quanto pare devo aspettare che si fermi da un altro lato ah l'ho ucciso ma mi ha ucciso anche lui la pistola ha fatto un po' di casino andiamocene avanti portiamo questa vediamo se riusciamo a beccarlo al momento giusto no non è questo al momento giusto quindi non alla prima volta che si finisce di fare rumore ah la faccia ho sparato mille colpi per cercare di colpirlo comunque ce l'abbiamo fatta vediamo se tornando in giù è cambiato qualcosa aiuto mi seguono qua abbiamo di nuovo il nostro la nostra notatina laggosa e vediamo qua come siamo messi si no non ce la faccio quindi non va bene devo aspettare che finisca sulla sinistra e quindi torniamo indietro andiamo al piano di sopra torniamo di qua questo dobbiamo fare così e così no voglio distruggere questo ok qua possiamo ricaricare possiamo scendere giù di qua e da questa parte no non è il punto giusto quindi riproviamoci ancora quindi riproviamoci ancora scorriamo in avanti dovrebbe dovrebbe beccarci qualcuno se c'è una guardia vediamo se riusciamo a beccare il punto giusto in cui succede questa cosa più che altro sembra che non riesca a vederla a caricare l'arma non ci serve adesso ah ok si vede si vede nel riflesso si vede nel riflesso quindi ottimo in teoria quando è sotto possiamo colpirla si vede nel riflesso che figata quindi andiamo avanti adesso sono curioso di vedere se c'era anche nella versione originale questa cosa eh sì ops vabbè adesso ho sparato non dovevo sparare così pensavo di dover caricare il colpo ma non serve quindi rifacciamolo un'altra volta ok mi ha visto adesso ah riproviamoci i controlli devo dire che essendo quelli della miga sono abbastanza eh difficili da capire bisogna ambientarsi molto sicuramente non ha tutte le cose che hanno i videogiochi moderni per quanto riguarda la precisione di alcuni movimenti e cose del genere ma è anche il bello del gioco è il difficile del gioco ogni tanto questa cosa vediamo se riusciamo a fare questa cosa allora adesso è sotto adesso quindi non è neanche quello il punto forse devo farlo quando è all'estrema destra forse andiamo avanti torniamo indietro ah il gioco salva in automatico salva completamente in automatico ok bisognava sono andato avanti troppo veloce ok il gioco salva in automatico con un sistema di checkpoint abbastanza particolare in realtà nel gioco originale non c'erano e quindi tutto era dovevi rifare tutto da capo e veramente erano molto di meno in realtà i checkpoint andiamo ad andare un po' avanti non è neanche quello riuscirò a capire esattamente come fare ah così lento addirittura come facciamo uccidersi adesso non di qua dobbiamo andare di sotto magari dove troviamo qualcuno che ci uccide eccolo qua grazie allora andiamo qua facciamo così così e il bello del gioco è anche questo il fatto che sbagliamo cerchiamo di imparare rifacciavo il pezzettino e voglio mostrarvelo lo stesso perché credo sia molto interessante allora ragioniamo un po' meglio se la guardia fa questo movimento qua ah adesso si c'è un punto in cui si ferma leggermente di più al centro e forse è esattamente quello il punto quindi l'ho mancata proprio di pochissimo quindi ci riproviamo e vediamo se finalmente ce la faremo vediamo di andare avanti ok adesso vai a destra adesso vai a sinistra ora preso ok l'abbiamo finalmente preso e adesso vediamo di tornare indietro ma continueremo nel prossimo episodio di questo let's play another world io sono haste brave namaste and be brave di questo let's play another world so let's play another world and be brave for sure let's play another world and be brave and be brave Grazie.